La scelta del nome può determinare un destino. Che cosa hanno in comune gli insegnanti e i lottatori di sumo? È in arriva al cinema, il film più irriverente, sorprendente ed entusiasmante dell'anno. Un viaggio ironico e divertente alla ricerca della verità rivelata dai numeri e dalle statistiche che ci aiuterà a comprendere le dinamiche sociali abbattendo ogni pregiudizio e ad esplorare il lato nascosto di ogni cosa svelando un nuovo modo di vedere il mondo. Dai registi di Super Size Me, Jesus Camp e The King of Kong Freakonomics, un esilarante rimedio alla crisi.